Ho sempre usato i social come fanno tutti, ti iscrivi, ogni tanto carichi qualcosa, segui qualcuno che conosci, qualcun altro che ti conosce ti segue, non cambia mai nulla, non succede mai niente e finisce lì. Poi un giorno ho iniziato a usarli come neuralgic, quindi mi sono riscritto e ho iniziato a farlo solo per un motivo, se voi andate a vedere giù nel mio Instagram, vedete i primi post, io usavo i social per caricare quei disegni che fanno i tuoi fan, se così si possono chiamare, ma erano amici, eravamo in cinque, e ho iniziato a caricare i fan art, quindi c'è la mia faccia fatta in diversi modi e io ho caricato quelli. E così è nata la mia esperienza sui social. Il social che mi piace meno è sicuramente Twitter, o X, come si chiama adesso, o X. Io lo chiamo il social media dell'odio. C'è tantissimo odio, tantissima rabbia. Twitter è quel social media che funziona solo tra persone che si vogliono male, e cioè, mi spiego meglio, praticamente Twitter è quel posto dove la gente va ad insultare gli altri, ad odiare, a scrivere commenti o sceni, è proprio una cosa assurda. Guarda, io cerco di starci il più lontano possibile. Ultimamente ho caricato qualcosa, qualche video breve, anche se caricare video su Twitter fa schifo, devi pagare. Twitter ti permette di conoscere le cose nel momento in cui succedono. Questo, sì. Twitter ti dà l'opportunità di sapere qualcosa nel momento in cui avviene, proprio. Quindi, al massimo, Twitter è bello per questo, per stare al passo coi tempi. Diciamo che, prima ancora di arrivare su tutti gli altri social, una cosa si viene a sapere subito su Twitter. Quindi, io Twitter lo uso soltanto per quel motivo là, per dare uno sguardo alle ultime cose che sono successe prima che arrivino sui social. Quindi, l'unica cosa bella di Twitter è sicuramente la velocità con cui le informazioni si muovono e tutto il resto fa schifo, cioè, è una cosa assurda. Gli unici followers che ho sono bots, gli unici messaggi che mi arrivano sono bots. Twitter è sicuramente il social che a me fa meno, meno piacere usare, quello in cui ho meno interazioni, quello in cui metto meno cose. Però, capisco che riuscire ad andare virale, riuscire a fare qualche migliaio di followers su Twitter è comunque un qualcosa di positivo. Perché, se magari una persona su Instagram ha un milione di followers, poi su Twitter magari è arrivato a 20.000. Quindi, fare una community su Twitter è sicuramente molto più difficile che farla attrove. Forse io parlo così perché non sono riuscito a creare nulla, non sono riuscito ad avere un po' di seguito. Quindi, Twitter non mi piace. Mentre invece, quello che mi piace di più di tutti ultimamente è Instagram. Perché è quello che mi sta dando l'opportunità di conoscere tante persone. Instagram è bello perché riesci a interagire velocemente con le persone, le organizzazioni, le istituzioni e anche persone. Mi piace molto soprattutto anche il sistema di messaggi, le persone che ti mandano un messaggio, ti incoraggiano, ti supportano, ti scrivono un commento, un feedback. Mi piace tantissimo. Mi piace molto anche la richiesta di messaggi, il fatto che molte delle comunicazioni vengono filtrate in automatico per evitare, appunto, tutti quei messaggi extra inutili che non servono a niente. Cosa che magari su altre piattaforme non esiste. C'è una cosa, però, su Instagram che mi dà i nervi. Ed è quella cosa che io chiamo il follow-unfollow. Non so se avete capito di cosa sto parlando. Praticamente è quando una persona ti segue e dopo pochissimo ti toglie il follow. Quindi follow-unfollow è una cosa che su Instagram succede in continuazione. Io penso che arrivi da Facebook, perché Facebook ha quest'idea dell'amicizia. Bisogna seguirsi entrambi, ti forza a fare l'amicizia. Quindi ci si segue a vicenda, ci si chiede l'amicizia e da quel momento si è amici. O si è amici o non si è amici. E allo stesso modo questa cosa è stata, in un certo senso, inglobata da Instagram. Ma non nel sistema. Ma se la sono portata presso le persone. Che una persona magari ti mette il follow e nel momento in cui si accorge che tu non ricambi, allora lo toglie. È tutto qui. E io lo chiamo follow-unfollow, questa cosa. E io ho una grossa difficoltà con questa cosa. Perché comunque lo faccio anch'io. E mi accorgo che lo faccio anch'io. Ma io lo faccio solo per un altro motivo, che adesso vi racconto. Io quando seguo qualcuno, seguo qualcuno che mi ispira, qualcuno che mi dà qualcosa. Quindi se io conosco una persona che mi piace, che voglio seguire, allora lo seguo. Però cosa succede? Succede che è una scelta immediata. Io non so a volte poi la persona se mi piace davvero. In quel momento mi piace. Cos'è successo un giorno? Vi faccio un esempio. Una volta ho seguito un ragazzo che fa i giri sui nuraghi. Onestamente, un bellissimo contenuto. E quindi ho detto, dai, minchia, questo è bravo, lo seguo. E proprio esattamente la mattina dopo, ho aperto il telefonino, ho visto una storia, se non sbaglio, un video di questa persona, dove spiegava come funziona l'affarino che ti permette di captare i fantasmi. Quindi una cosettina con delle luci, che luccica, e che tu puoi usare per trovare i fantasmi. Io ho detto, cavolo, non avevo idea che questa persona andasse in giro a cercare i fantasmi. Mi sembrava stesse facendo i giri ai nuraghi, poi dal nome, da tutto quanto. Cioè io non posso seguire una cosa di questo tipo. Perché con Instagram esce il tuo nome o in ogni profilo che segui. Quindi se uno va lì e vede i video sui fantasmi, legge sopra, seguito da Nuragic. E io non posso seguire il contenuto sui fantasmi. Ok, io lo rispetto, io non credo che i fantasmi esistano. Io accetto l'idea che siano un'invenzione, che se uno crede ai fantasmi va bene, però io non posso avere il mio nome vicino a quella roba lì. Quindi ho tolto il follow. È un istinto automatico. E quindi dopo un paio di giorni anche questa persona mi ha tolto il follow. Si va avanti così su Instagram. Uno ti segue, se tu non lo segui, dopo due giorni ti toglie il follow. Magari tu segui qualcuno perché ti piace in quel momento. Lui ti segue pure lui, però tu capisci che non è poi una cosa che ti interessa, allora togli il follow e te lo toglie anche lui. E c'è questo follow-on-follow continuo che comunque, vabbè, è quello che è. Però esiste ed è noiosissimo. E non sto neanche lì a cercare contenuti da vedere. Io solitamente su Instagram ormai seguo solamente le persone che incontro nella vita reale, che mi interessa vedere i loro aggiornamenti, cosa di cosa parlano, cosa fanno, cosa vogliono condividere e basta. Non seguo più, quasi mai, persone che parlano di archeologia. A meno che non siano delle persone autorevoli che danno un servizio, che parlano di cose reali, però solitamente io non seguo le persone che fanno quello che faccio io. Non seguo più molta gente che parla di archeologia perché, come ho detto tante volte, mi sto iniziando a stufare. Mi sono distaccato da questa realtà dell'influencer archeologico, dell'influencer che accaccia di nuraghi, onestamente. E mi sono anche stancato di vederli, questi contenuti. Certo, ci sono alcune persone adorabili che mi piacciono tantissimo, non faccio nomi, loro lo sanno perché commento, metto il like, ci mandiamo i messaggi, quindi ci sono persone bellissime in questa crica archeologica e se stanno ascoltando questo podcast sto parlando proprio di voi, le persone con cui ho un bel rapporto e mi auguro di non aver mai nessun motivo per non seguirle più, queste persone. Però ci sono tutte le altre, tantissime altre che invece trovo quasi assillanti. Ragazzi, non arrabbiatevi, io dico sempre così, ma io penso di parlare anche un po' a nome di tante persone perché, dai, non scherziamo più. È una palla sta cosa dell'archeologia su Instagram, dai. Secondo me abbiamo un po' esagerato, abbiamo veramente esagerato. Non ha quasi più senso postare l'archeologia su Instagram. Una cosa che non sopporto proprio di Instagram è il contenuto da spiaggia, cioè, proprio, mare, sole. Ce n'è uno che mi piace molto perché è molto bravo e professionista, proprio, fa dei video molto interessanti e quello mi piace. però tutti gli altri non ce la faccio proprio. Io, se vedo il mare, oh, a parte che quello non è proprio il mare, dai, raga, il mare che si vede su Instagram non è il mare della Sardegna. Io, sì, devi andare in quella spiaggia a quel giorno, a quell'ora, in quel momento lì, con quel drone lì per vederlo così, ma a me piace più il mare come lo vedo coi miei occhi che non è come il mare di Instagram. Quindi, il contenuto di mare è proprio uno di quelli che è, mi fa veramente star male, tranne, tranne uno o due che apprezzo veramente tanto. E poi c'è quella robaccia che io chiamo la malattia del drone, scusate. Ah, ecco, ok, ok, faremo un, un episodio su questo perché c'è tantissimo da dire, però, io, ho, i brividi quando vedo il contenuto fatto col drone, ragazzi. Non c'è cosa peggiore per me del contenuto fatto col drone. Non lo so, è una cosa che io chiamo la malattia del drone, è una cosa che è un virus che si è diffuso in un paio d'anni come come sono nati i droni che ha praticamente rovinato l'esistenza dell'essere umano, secondo me. A me piace il drone come strumento, mi piace il drone perché ti permette di raggiungere l'altezza giusta da cui poi puoi fare una inquadratura dall'alto, è molto bello. Ma non mi piace tanto invece volare, vederlo volare in movimento e su e giù e a destra e a sinistra, poi ci sono quelli che loccano nuraghe, ci girano attorno e basta. Cioè, è molto molto strano. Il drone, secondo me, ha rovinato completamente la creatività umana degli ultimi dieci anni perché abbiamo iniziato a vedere le cose soltanto dall'alto e questo ha anche influenzato molto il modo in cui vediamo l'archeologia perché adesso si sale col drone e si guarda dall'alto e si dice ah, questo è un fallo. Ma cosa ne sai? Ma quello è caduto tutto, è tutto distrutto. Quello che vedi tu è quello che è rimasto. Sono magari le fondamenta, non è neanche una forma che poteva esistere all'epoca e non solo ma quello che dico io è questo che solitamente non è che la gente disegna le cose in pianta. Noi siamo abituati a vedere le cose dall'alto, a dire ah, queste sono delle corna, questa è nell'organo femminile, ritorniamo sempre lì, ma non è così. la visuale che avevano quelle persone era una visuale umana e poi se anche quello fosse un simbolo in pianta, ma perché quel simbolo non è da nessun'altra parte tranne che nella pianta? Quindi, aiuto, il drone ha rovinato la festa. Secondo me è una cosa bruttissima, vintage. A me il contenuto del drone mi sembra roba vecchia. Ecco cosa mi sembra, mi sembra roba vecchia. guardare le cose col drone mi sembra una cosa antica e non solo, ti dà anche un senso di piccolezza perché tu guardando col drone sembra che guardi le cose in miniatura. Questi nuraghetti sono piccoli piccoli da lontano, dall'alto del cielo. Questo nuraghetto piccolino indifeso a me non dà la sensazione di bello. Preferisco dal mio punto di vista di essere umano guardare un attimo con la telecamera e riuscire a inquadrare quel piccolo pezzettino che riesco ad inquadrare con la mia piccola vista di piccolo essere umano dentro un nuraghi immenso. Quello mi dà una bella sensazione. Inquadrare quello che vedo realmente non quello che vedessi se fossi in aria a 30 metri d'altezza mentre magari non sono neanche arrivato al nuraghe sono giusto uscito dalla macchina faccio volare il drone vado lì guardo va video torno a casa. Secondo me è uno strumento che dovremmo iniziare a prendere e a mettere nel cassetto è utile vabbè ho fatto tutto tutto il discorso sul drone qui vabbè c'è tanto da dire sul drone però secondo me la malattia del drone su instagram è agli sgoccioli poi ci sono poi ci sono gli spammer c'è quel tipo traveling wild in sardinia che io sto cercando di bloccarlo in tutti i modi l'ho bloccato l'account bloccate le parole praticamente ho scelto nelle parole da bloccare traveling wild in sardinia eccetera quello lì praticamente c'ha i bots che ti arrivano nel profilo ti dicono ciao sono pinonline mi segui il mio account traveling wild che io ti seguo con questo dai vi sarà capitato anche a voi a me gli spammer danno fastidio perché a parte che quell'account è un negozio cioè se tu clicchi su un link vai in un altro posto dove ci sono dove quella persona penso che ci guadagni non lo so non vorrei dire cos'è perché io l'ho bloccato non lo vedo più però io mi ricordo che avevo cliccato su un link e c'era amazon comunque gli spammers fanno schifo e se tu sei uno spammer sei una brutta persona e anche questo non mi piace di instagram troppi spammer e troppi spammer sardi tra l'altro che nascondono dietro l'amore per la sardegna la loro voglia di guadagno facile un'altra cosa che che mi fa impazzire e qui qualche amico mio mi dispiace perché so che alcune persone che io conosco a cui voglio molto bene hanno fatto contenuti di questo tipo però non mi piace quel contenuto che che a me sembra il gioco dei perché sapete sapevi che no c'è ovviamente quei video che iniziano con sapevi che solitamente e poi continuano sapevi che in sardegna no quello io mi viene veramente aiuto i brividi non so se avete capito quei video sapevi che in sardegna c'è il aspetta mi preparo sapevi che in sardegna c'è il kenio più grande d'europa lo puoi visitare dalla mattina alla sera io sono andato alla mattina e tu vorresti visitarlo scrivimi nei commenti non so scusate io qua mi sto facendo mille nemici però raga e poi scrolli il profilo e fai sapevi che sapevi che sapevi che sapevi che ogni volta che inizia il video no oh mamma mia e quelli sono simili ai food blogger food blogger non ne parliamo sapevi che a Cagliari puoi mangiare la pizzetta le fanno verdi gialle e rosse io ho scelto quelle rosse sono molto buone e tu vorresti mangiare la pizzetta a Cagliari scrivilo nei commenti oggi sto facendo i dissing avete capito un po cioè secondo me questi contenuti sono un po un po un po pesanti anche perché io non vendo niente quindi io capisco che uno debba vendere capisco che uno debba vendere alla formuletta del sapevi che la pizzetta piuttosto che il dolce piuttosto che il sushi dov'è a Cagliari e tu lo vorresti mangiare scrivilo nei commenti io lo so che quella è la formuletta però cavolo dedicare la propria vita alla cosa del genere vabbè è una vendita è gente che vende sicuramente fa bei soldi io non ci riuscirei non lo farei non mi sentirei felice di farlo io non ho mai guadagnato niente da quello che faccio anche se ho avuto tante proposte però man mano che io vado avanti con i miei video di protesta tutte queste proposte si allontanano sempre di più mi cercavano per le collaborazioni adesso ma mi hanno cercato solo la prima settimana poi sono spariti tutti comunque io sono un personaggio un po scomodo per quello che faccio a me mi piace usare i social per fare un impatto positivo nel mondo in cui vivo in questo caso la Sardegna quindi piuttosto che cercare il guadagno a tutti i costi cerco di invece mandare un messaggio là fuori che è la cosa più bella del mondo non ci guadagno niente ma il guadagno di poter dare voce a una protesta che ti appartiene o a delle persone che hanno bisogno quello è un guadagno enorme per me quindi ovviamente io sto parlando di una cosa che non faccio che non mi piace e che non mi piace neanche vedere quegli altri che lo fanno per quello io ci sono delle persone delle cose degli influencer che io non seguo non condivido non metto like non commento anzi se potessi e non lo voglio fare ma alcuni veramente li bloccherei che poi io alla fine faccio dei vlog non è che sia chissà che cosa non è un contenuto neanche tanto vendibile anzi comunque sto vedendo che un po' di gente inizia a fare i vlog c'è un po' di gente che non lo dico che stiano copiando assolutamente non volevo dire quello assolutamente perché ognuno fa qualcosa che è già stato fatto prima da qualcun altro quindi non sto dicendo assolutamente quello però è interessante vedere che molte persone si sono accorte che la foto non è più importante come prima cioè fare una foto col drone ormai non serve più a niente invece vedo che fanno dei vlog un pochettino più interessanti magari a volte con la camera in mano girando per il nurag un po' come faccio anch'io un po' come fanno tante altre persone e quindi vedo sì che c'è questo ritorno dei vlog e io mi sono un po' stancato di fare i vlog onestamente non so se avete visto ma ho caricato un nuovo video su youtube che è il video della pulizia archeologica l'ultima che ho fatto a San Vito con Archeo e tutti gli amici e in quel caso lì è stato un cambiamento radicale nel mio modo di creare ho cercato per la prima volta di fare un documentario perché bisogna sempre cambiare bisogna sempre migliorare io non posso rimanere a fare i vlog quindi sì vedo tante persone che stanno iniziando a fare i vlog e sono contento ma io sono già in un altro luogo in un altro sistema io non sto più facendo i vlog sto cercando di fare qualcosa di nuovo e nel momento in cui quel qualcosa di nuovo mi suonerà un po' vecchio andrò avanti e farò ancora qualcos'altro quindi non importa se quello che faccio anch'io e quello che mi ha dato un po' di seguito adesso iniziano a farlo tante persone perché tanto io sto andando avanti e sto facendo già qualcosa che molti che adesso fanno i vlog non hanno idea si sente in giro alcune persone dicono eh ragazzi lo sapete che io ho sempre fatto video da tanti anni quindi sto riprendendo con i video no tu non stai riprendendo con i video tu hai caricato foto per gli ultimi 3-4 anni e basta se stai facendo i video puoi anche dire oh ragazzi inizia a fare i video cioè non è non è un problema non è che bisogna sempre dire di essere i primi cioè non è che uno che ha sempre caricato foto su Instagram da un giorno all'altro si mette a fare i video e deve dire oh ragazzi io ho ripreso a fare i video no tu stai iniziando a fare i video non ti devi vergognare non c'è nessun problema non c'è bisogno di dire ah ma io li facevo cinque anni fa sì è un'altra cosa sembra quasi che chi chi fa queste cose voglia sempre essere il primo ad averli fatti io non sono il primo ad averlo fatto però forse in alcune cose sono stato il primo adesso uscirò un pochettino dai social perché mi sta un po' stretto mi sta stretto tutto mi sta stretto come formato quadrato non può essere largo si perde tanta roba mi sta stretto come tempi dieci minuti massimo come durata del contenuto perché tanto c'è un video dura un giorno su instagram poi il giorno dopo già è morto cioè io non posso fare così e a proposito vi racconto un caso assurdo cioè il mio video di santa cristina che ho caricato su youtube anzi vi invito a vederlo che è uno dei video più belli che ho fatto onestamente era uno dei primi è il video che raggiunge più visualizzazioni su youtube nella mia pagina ormai vabbè i video più famosi li ho messi privati i video più importanti io ho raggiunto le 150.000 visualizzazioni su youtube in pochissimo tempo ma con i video di youtuber tipo recensioni quelle robe là che non mi va più di fare quindi ho tolto tutti i video più importanti li ho messi privati e questi giorni c'è il video di santa cristina che sta esplodendo è proprio c'è esplodendo vabbè c'ha 500 visualizzazioni però per il mio youtube è tantissimo quindi io vorrei caricare dei contenuti che poi rimangono nel tempo che qualcuno può vedere qualche altra volta non mi interessa caricare una roba che il giorno dopo non guarda più nessuno è scesa nel dimenticatoio di instagram quindi ho deciso di impegnarmi molto di più su youtube e fare come fanno tutti su instagram carico i pezzettini perché un video di 20 minuti non lo posso caricare a metà non serve a niente quindi caricherò 2-3 volte 2-3 pezzettini e mi auguro che poi la gente vada a vederselo intero su youtube e la stessa cosa faccio anche con tiktok tiktok mamma mia cioè tiktok mi piace tantissimo è una delle piattaforme che mi ha dato più soddisfazioni però dai cavolo mi ha dato tantissime visualizzazioni per per un paio di settimane e poi basta cioè io ho fatto 2000 followers in una settimana e poi 600 in due anni cioè in un anno e mezzo però comunque tiktok è quella piattaforma strana ti fa andare un video virale e poi spera che tu paghi per la tiktok promote per fare più visualizzazioni non so se vi capita ma tiktok vuole che tu paghi se vuole visualizzazioni altrimenti l'unico modo è avere persone che condividono i tuoi video e in quel caso allora viaggia da solo però non sempre succede perché la gente va e viene poi questi social da video di un giorno sono utili per chi vende come ho detto prima cioè se uno vende la pizzetta e fa il video dice dai faccio il video fa 50.000 visualizzazioni 100.000 visualizzazioni poi il giorno dopo chi se ne frega di quel video hai fatto quello che devi fare incassi fai la promozione è finito quindi siccome io non faccio queste cose non ho alcun alcun motivo di di spendere 60 ore in un video se poi nel giro di 24 è già morto i social sono belli invece per quei video di protesta non so se se voi ne abbiate mai visto uno ma io ho fatto tanti video di protesta il più famoso era quello quello che ho fatto il mese scorso su film degli Chardana quello quello è un casino quello ha raggiunto veramente centinaia di migliaia di persone perché vabbè nei miei profili ha fatto 20-30 mila visualizzazioni ma è stato condiviso in chat è arrivato in tutta Italia l'hanno visto tante persone anche perché quel video ha fatto arrabbiare molte persone giustamente ne parlerò quando ci sarà motivo di parlarmi comunque sì quello è stato forse il mio video di protesta più forte ma ne avevo fatti tanti anche sull'eolico forse il primo sull'eolico che ho fatto è vento rubato stolen wind che potete vedere sul mio tiktok ne ho fatto uno sulle pacchine rotte la fibra che mancava mi stavo lamentando della fibra ottica insomma ci sono dei video che vanno e sono quei video che parlano di qualche disagio me l'aveva spiegato un mio amico questa cosa praticamente la gente piace guardare video sul disagio ha un nome questa cosa però ci sono persone che ci godono a vedere cose tristi quindi ho capito sin da subito che far leva sul disagio di alcune cose poteva darmi un po' di visualizzazioni e non ne ho approfittato anche se questa cosa si può replicare ogni volta io non ne ho approfittato sono andato avanti ho deciso di continuare a fare un po' di cultura se poi si può chiamare così mi piacerebbe staccarmi un pochettino dai social e fare cose più reali insieme alle persone vivere la vita reale perché due anni che sono troppo 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 appresso a questi video ogni due giorni carico un video mi piacerebbe più passare del tempo con le persone lavorare con le persone magari anche trasferire le cose che ho imparato in questi anni a qualcun altro io sto seguendo alcuni creativi che stanno iniziando adesso a fare dei video e gli sto spiegando praticamente tutto quello che ho imparato che non è ovviamente tantissimo però almeno io posso raccontare di tutti gli errori che ho fatto e di come ne sono uscito quindi qualcosina ce l'ho da dire su quello che ho fatto negli ultimi anni quindi adesso mi piace un po' lavorare con le persone e stanno uscendo dei progetti molto interessanti e sono soprattutto progetti reali con persone reali nella vita reale che poi hanno sì un impatto anche sui social loro i social miei e questo mi sta piacendo tanto il social che invece mi ha stupito più di tutti è stato facebook e qui concludo con quello che poi è uno degli argomenti di cui volevo parlare oggi facebook è bellissimo perché ti dà cioè quella soddisfazione di vedere veramente tante persone che contribuiscono alla diffusione del video per esempio se ultimamente carico un video su tiktok magari fa 200 visualizzazioni se lo carico su facebook ne fa 200 condivisioni e fa 10.000 visualizzazioni è una roba bellissima ragazzi cioè la gente su facebook davvero supporta davvero condivide certo poi ognuno condivide magari non ha neanche un follower però comunque è molto molto interessante io vedo che facebook continua ad essere forse uno dei social media più interessanti per l'interazione arrivano anche dei messaggi persone che vogliono collaborare persone che ti vogliono aiutare persone che ti vogliono supportare quindi sì facebook è fighissimo però c'è un però ci sono alcuni gruppi di persone e alcune pagine che prendono le cose troppo sul serio e a volte si dimenticano che sono in un cavolo di social media cioè ok ok io capisco che la vita e i social media sono la stessa cosa se uno dice qualcosa sui social è come se lo stesse dicendo nel mondo reale però ho visto che ci sono decine e decine e decine di pagine spietate di persone comunque molto arrabbiate molto fiere orgogliose permalose che vogliono per forza essere dominanti nella scena e parlo proprio nella scena archeologica si vedono delle cose veramente brutte all'interno di queste pagine ci sono veramente delle cose noiose della gente che insulta della gente che prende in giro della gente che continua continua a scrivere le stesse cose e ci sono quelli di Atlantide ci sono quelli dei giganti ci sono quelli degli Chardin e una cosa molto molto triste e ho visto proprio oggi che una di queste pagine qualcuno ha detto che ha denunciato qualcun altro che per diffamazione perché appunto c'è stato un diverbio qualcuno io non so niente di questa cosa anche perché ho visto solo questo post dove si avvisava della denuncia se dite a qualcuno ti denuncio e quello vi dice guarda che mi stai minacciando non è una minaccia si può dire ti denuncio quello è vero anzi lo so perché a me è capitato tante volte e non per le cavolate su Atlantide a me è capitato per le battaglie che faccio per il video che faccio di protesta ti andrò avanti anzi ogni volta che questo succede io rinnovo il mio impegno ancora di più con più impegno con più risorse con più voglia con più ricerca con più video con più persone mi sembra aver capito in questo caso però che la querela sia fatta da delle persone che magari non hanno tutta l'autorevolezza del mondo contro altre persone che sono proprio forse una di quelle pagine un po' cattive un po' un po' pungenti di questo ambiente archeologico di facebook e in questo caso io penso che si crea un precedente molto pericoloso perché se un gruppo di persone vuole parlare di Atlantide di giganti di di chardana tutto quello che vuole può farlo si può fare nessuno lo vieta però uno che si espone così tanto con temi che non sono confermati dalla scienza ma si ci sono degli scienziati c'è un archeologo di cento anni che è d'accordo con te non vuol dire niente se però tu passi tutta la tua vita alla ricerca di Atlantide io ho tutto il diritto di di deridere una cosa del genere io ho avuto tante volte da ridire sul comportamento di uno o dell'altra persona e non mi immaginerei mai una denuncia una querela perché io ho detto a uno che Atlantide non esiste o cose del genere si crea un precedente molto pericoloso all'interno di questa comunità di sardi appassionati di archeologia che se si inizia a querenarci a vicenda perché siamo permalosi perché le nostre idee vengono attaccate perché quegli altri ci hanno detto che siamo degli stupidi o cose del genere o tante cose possono dire quello che vogliono però il concetto è questo che è sbagliato e questo è un messaggio che io faccio proprio a loro non so se ascolteranno mai questo questo discorso però è sbagliato denunciare qualcuno che la pensa diversamente da te se una persona butta fuori delle idee particolari si deve prendere anche tutto quello che gli torna indietro incluso insulti prese in giro di tutto e di più perché comunque fino a prova contraria stiamo sempre parlando di ipotesi teorie cose che possono anche essere fantasiose e nessuno di noi ha l'autorevolezza l'autorità per dire ho ragione perché c'è solo un modo per avere ragione in questo campo ed è solo uno studiare qualcosa che ti permetta veramente di parlare di archeologia non basta essere un ingegnere di ila meccanico non basta la laurea in qualsiasi altra cosa uno deve studiare l'archeologia scrivere dei testi pubblicare le scoperte e avere la supervisione degli altri adattare le proprie ricerche alla supervisione che fanno gli altri queste ricerche devono essere accettate dalla maggior parte della comunità scientifica e solo dopo uno può dire guarda ti querelo perché io ho ragione uno che solo perché parla di archeologia da 20 anni allora ha il diritto di sentirsi migliore degli altri magari addirittura a querelare qualcuno perché la pensa diversamente o perché ha usato un linguaggio pungente bisogna stare attenti a questa cosa non bisogna iniziare a fare così perché se no iniziano a partire denunce a destra e sinistra quello denuncia quello per Atlantide quell'altro denuncia quello per i bronzetti quello per l'arco quell'altro per il Nuraghe non si fanno queste cose ragazzi secondo me è una grande schifezza è una schifezza enorme e rovina per sempre la nostra community niente oggi ho fatto questo podcast perché volevo dire questo ciao